Ecco la parte più complicata, valida solo per i bambini più grandi, come accedere al menù di ocarina. Se vogliamo accedere al menù, basta premere contemporaneamente le due frecce per qualche secondo. A questo punto, premendole separatamente, si scorre il menù, con il tasto quadrato si seleziona l'impostazione che ci interessa e si esce con il tasto oca. Il menù ci parla per simboli, con z sceglie il tempo dello spegnimento automatico. Con l'altoparlante attivi e disattivi la modalità all'aperto. In questo modo ocarina suonerà a volume molto alto. Ma dobbiamo stare attenti a non accostarla all'olecchio, perché potrebbe farci molto male. Con il lucchetto si seleziona o deseleziona il blocco permanente della tastiera. Se fate così, i vostri bambini o fratellini piccoli non potranno più cambiare canzone. Con i avete tutte le informazioni della vostra ocarina. Adesso restano solo i grandi! Grazie per la visione!